Se lei è davvero il capitano Cosa ci farà fare? Faccia la ballata del capitano E di nuovo il tuo momento, le sei tu le ballate Fai una bella ballata Fatta Io non ci credo che in queste cose Riesci a farle in due secondi E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E questo giro che mi ha Hock the Dead E siamo qui con il terzo episodio Siamo ancora nell'acquario Prontissimi a completare la nostra meravigliosa gita Esattamente Allora, dobbiamo finire con Tommy Dopodiché dobbiamo andare dalla bambina Di cui non ricordo il nome Ovvero nostra figlia Stessi, come fai a non ricordarti i nomi dei nostri figli? Sei un padre terribile Sono un po' complicati Oh mamma mia No, aspetta, è un parkour questo? Devo scal... No Allora Allora Non siamo in grado Abbiamo i tentacoli Non possiamo farlo Figliolo, scendi Ti prego Tommy dai, torna qui Scendi Tommy è cattivissimo Aia 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 Tommy Devi smetterla Smettila o quando arriva ti prenda bastonate No, non è vero Ma non lo vedi che abbiamo difficoltà Che poi chiamano la protezione polpi Non facciamo ridere Era terribile Certo che facciamo ridere Ma devo acchiepare questa cosa? Eh sì, sta illuminando Ok E adesso Ma ti ci devi trascinare, vedi, vedi Sì, piano piano No, con un po' più di forza Anna, aspetta Vai, vai Posso usare le mie gambine, ok? Ok, vai, vai Tommy, stiamo arrivando Non mi puoi fermare Tranquillo, Tommy Già questo è difficile da fare Se hai le gambe e i piedi E hai le mani Figurati se sei un polpo Acchiappati Cioè agganciati e vai No, non ce la posso fare No, ce la puoi fare Usa le braccia Non ce la posso fare, guardami Stai usando solo i piedi Ma perché non posso usarle? Non è un essere umano, eh Che si aggrappa alle cose Sì, ma allora I tentacoli fanno, capito? Si appiccicano Quindi riesci a fare presa No, no Ok, stavo per cadere Aiuto Allora, Tommy Mi devi lasciare Scalare la montagna Oddio Tommy Lasciami il pazzo, Tommy No, vabbè Oh, ce l'ho fatta? No Se non caschi ce l'hai fatta Vai, vai, vai Acchiapati Andiamo Oddio, oddio Lascia con quelle gambe, su Vola 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 E adesso Ti devi rompicare qua Vedi? E vieni il buco E penso che l'abbiamo raggiunto finalmente Vai Ok Aspetta Tirati su Ok Ok Buongiorno Scusi, signorina La bambina ti sta guardando Ciao Tutto bene? Ci stiamo arrampicando Sì, siamo persone normali E come hai fatto tu E poi Devo dire una cosa È lei quella che non è normale Che fa avanti e indietro Qui sopra, ferma Senza fare nulla No, stava facendo la pattuglia Nella terretta, capito? Dici Sì, sì, sì No, secondo me è solo fuori di testa Grazie per aver visitato Il mondo di Kelp Ok, grazie a te Perché ci siamo divertiti tantissimo Con Tommy Sì, guarda È stato bellissimo Ottimo a lavorare a papà Abbiamo passato una giornata magnifica Con il nostro figlio a letto Benissimo Volontariamente ha imparato un sacco di cose Ha detto Stacey Dove è scendata? Stacey Stacey Il tuo paparino arriva Allora Dove può essere? Dentro l'acquario Perché non la vedo da nessuna parte Tommy Tommy, vieni qua Tommy, dove è tua sorellina? Tommy, dicelo Signora No, signora Ha detto sto pianificando Allora, io voglio premere questa freccia Ok Eh, l'ascensore Vai Andiamo Secondo me stiamo andando nel posto giusto Beh, tutte le altre portere hanno chiuse Quindi mi sa che non abbiamo molta scelta Lo spero È la posta giusta Ok L'ascensore è giusto State scendendo nelle profondità marine Ah Dimora di molte creature strane e misteriose Ok Sarete testimoni del mondo di No, che sta succedendo? Perché è tutto buio? Allora, la nostra figliola è qua al buio da sola Proteggiamola Staci Che persa, poverina Tutto bene? Allora, supero il pavimento da danza Cosa? Ah, quello Ok È il tuo momento Lo so Questo è il tuo momento Lo so Lo so che ti sei preparato una vita per questo momento Mi serve un cappello adatto E ce la puoi fare Questo Prendi quello, sì Esatto Perfetto Altrimenti non funziona il ballo, giustamente Staci, spostati Può essere pericoloso Allora Allora, devi stare fermo lì per iniziare e poi parti Le tue doti da ballerino ti daranno una mano in questo momento Non ce la posso fare Sì, puoi Cosa dovrei fare? Oddio Ah, devi prendere i pesci I pesci luminosi quando li vedi Ok Li devi acchiappare Bravo, bravo Ce la puoi fare Sto andando bene? Sì, stai andando bene Sembrerebbe di sì Ok Stessi che ti fa belle mosse papà Vai Mi stai facendo emozionare Sono nato per ballare, lo sai? Questi sono dei passi molto famosi Se vuoi ti dico il nome Dimmi Pompaltoc 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 Ma ne esiste? Sì, sì, è una mossa famosissima che Stai dicendo cose che non esiste Solo i polpi come me la conoscono Ok Fatto? Al primo colpo E io te l'ho detto che qua le tue doti si sarebbero rivelate utili per una volta Per una volta Supera con stessi le meduse Le meduse? No Perché le meduse? Io credo che questo sia una specie di labirinto Ma devo schivarle? Non lo so No, no, è andato, è andato, è andato Ok Dicevo, credo che sia una specie di labirinto Sì Perché stai urlando? Boh, non lo so Allora, vedi? È un labirinto fatto di acquario di meduse Ok Ho speso alla nostra bambina Allora, aspetta, qua c'è uno scienziato Però io non mi posso far vedere da lui Dov'è Stessi? Non lo so, Stessi? Non ci dobbiamo far vedere No, Stessi, sei proprio lì davanti Vieni un po' qua, vieni Aspetta Ok Allunga un tentacolo piano Non tirarle il cartellone in testa Un tentacolo, dai Tieni, Stessi Perfetto Lo sto distraendo Vado È un genio, Stessi, è davvero un genio Bravissima Ce l'abbiamo fatta Allora, adesso mi nascondo Ok Non vedo nulla Ma è stranissimo questo livello Allora, Stessi, ridami la luce Dai al tuo papà Non iniziare a urlare, per favore Dobbiamo collegare i vari fili No, ovviamente Non in quello Nell'altro Nell'altro Vedi che sono uguali di colore Stessi, facci luce Allora Blu Verde Verde Rosso Quindi devi fare questo marrone Con quell'interruttore lì giù Allora È pieno di fili Non riesco niente a passare Eh, ho notato In questo, sicuramente Lo vedi? Questo? No, questo marrone Questo marrone con marrone, dai Amica mia, non capisco nulla Questo Ottimo Sì, bravo Ascoltami tu Che io ho capito Poi Il blu è qua Esatto Il blu è là Mi sono incastrato Con le gambe nei fili Ok Bravissimo Perfetto Poi Allora Ne mancano due, credo No, questo non mi serve Non ci serve Non ci serve Sì, ci manca il rosso e il verde Il rosso è qui dietro Bravo Fatto? Eh, ma non è che ci sia proprio Tanta luce Allora Illumina la statua misteriosa Non l'abbiamo fa Ah, ok Devo mirare adesso Esatto Devi mirare le luci Per farle più Andiamo, Stessi Andiamo Andiamo Forza, sistemiamo Vieni che abbiamo quasi finito Di sistemare Tutta la zona dell'acquario Perché dobbiamo fare tutto noi Ogni volta Allora Acchiappa Ok Ok Ottimo Abbiamo Un numero per ogni luce Ottimo Almeno così sappiamo dove illuminare Quindi va benissimo Uno Lì Qua Ah, eccolo La testa, la testa, la testa Ok Ok E il quattro è già fatto, no? Aspetta Si è spento tutto Sì Ok Penso si è andato, no? Cioè, questa cosa È la cosa di cui ho paura Un pesce che sorride Che si chiama tipo Cocco la pesce Ci sono le scale al contrario Eh vabbè Ma chi è che riuscirebbe a farle al contrario? Scusami Io Correndo No, non si possono fare Certo È la cosa più divertente Alza le gambe papà È certo figlia Facile a parlare Vai Vai Ce la faccio Ce la faccio figliola Ok, adesso premo il pulsante E torno dal normale Però lei non le può fare le scale Noi sì Lei no Capito Cos'è questa cosa? La nostra figliola la dobbiamo proteggere Dalle avversità Si deve arrangere da sola qui Cioè è già grande Arrangiati Ma che è già grande Che minuscola poverina Non mi interessa Di nuovo Ma dai Ma non è possibile Tutte queste calorie Oggi devo consumare Non ce la faccio stavolta Sono più ripide Hai notato? Sì Sono molto più ripide Mi stanno facendo venire mal di testa Come si può? Allora Io non voglio impazzire Come nello scorso episodio Ok Quindi adesso Conterò fino a tre E le scale si sistemeranno da sole Se lo dici tu ok Uno Due Due e mezzo Tre Hai finito? Ok Impegnati Non posso stare Nella Sul mano No Allora Concentrato Un bel respiro Ce la puoi fare Su Alzo 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 Yes Ci sei No Non cadere Vai Ottimo Ottimo Non ci posso credere Che fatica incredibile L'ha premuto il pulsante Non lo so Stasi Sì Ok Ottimo Dimmi che non ce ne sono ancora Dimmi che l'uscita per davvero Che ce ne stiamo andando da questo acquario Terribile Ce l'abbiamo fatta Abbiamo recuperato anche Stasi Quindi teoricamente Nostra mogliettina Tommy e Stasi Adesso sono tutti insieme È svenuto È svenuto Hai visto come è uscito dalla fatica È svenuto Si è accasciato La nostra mogliettina sta di sopra E perché stai proprio su quell'acquario Cos'è questa cosa L'hai vista Dobbiamo passare da lì Allora Ma che non ci possiamo andare Dice che possono entrare solo i dipendenti Guarda che rischiamo Siamo dei polpi birichini Possiamo fare questo e d'altro Ci scopriranno Abbiamo superato innumerevoli avversità Quest'oggi Quindi possiamo farcela E pensare che noi non ci volevamo neanche venire all'acquario Pensate a tutto quello che abbiamo dovuto fare Un po' meno scale Magari mi avrebbe fatto piacere Cose strane Per ora facciamo finta di nulla Ok Mogliettina Occhio a non cadere Ti prego Mi sembra una terribile idea stare qua Perché così? Era una trappola No Ok Cos'è successo? Ma ci ho tolto i vestiti Allora No, 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 no No, no No No, perché ci sta catturando Che brutti che siamo senza vestiti Quanti altri ce ne sono là fuori Ma siamo solo noi Siamo solo noi No No No, ti prego Ci ha buttato nell'acquario Non ci provare Sei un rovina famiglie No Perché ci hai fatto questo? È troppo triste Siamo bruttissimi senza vestiti Piccola parentesi No, ma è troppo triste Ma perché? Adesso cosa sta succedendo? Caricamento Mi sta venendo da piangere È tristissima questa cosa Io te lo dico Non ho parole perché è davvero triste Cioè ha levato i vestiti Ci ha buttato in un acquario Ma ti sembra? Adesso nuotiamo Recuperiamo i vestiti No Perché sto gioco sta diventando così triste? Era così bellino fino adesso Ma è qualche ricordo? Perché si è visto lui che stava ricordando O no? Sì, forse sì Senza farti scoprire Stai lanciando tutti i pesci Non mi sembra Lasciami in pazza Io te lo dico Posso mangiarmelo un pesce al volo? È fresco fresco Buono buono Verso dove dovremmo andare? Dovrei salire qua sopra Dici? Devo rubare il caffè Che poi era la tazza che avevamo in casa Ti ricordi? La tazza che abbiamo bevuto Da cui abbiamo bevuto il primo giorno Se ti ricordi? Allora dopo che ribeve La capo Ok, vai Vai Bevi E ci beviamo un caffè L'hai bevuto? Ok Vai via Scappo Vai via, ti prego Già gli hai rubato il caffè Che non si sa perché un polpo Appena è arrivato su una lavede Va a bere il caffè Per riprendere l'energia Mi sembra scontato, cara Come lo bevi tu a colazione Lo beve anche il nostro amico polpo Certo Guarda come siamo spostati Ma secondo te posso passare qua a fianco? Tipo così? No No, no, no Torno indietro Beh, non farti scoprire proprio ora Ascolta Ma lo vedi quanto è scivoloso il pavimento? Eh sì, lo noto Però cioè non ci dobbiamo far scoprire, dai Ma non riesco a fare le scale per colpa Vedi? Alzala quella gambina Dai che hai bevuto anche il caffè Porca miseria Uffa Perché mi devi sempre far impazzire? Stava andando tutto bene Ma Forse è buggata però La vedi? Sì, è sotto Sotto Abbiamo resettato tutto E adesso finalmente non c'è più il problema A parte Il fatto Che è pieno Zeppo di gente E di ostacoli Cioè qui non ce ne andremo mai E cioè è ancora più scivoloso Di quanto già non sia Quindi Sì perché adesso c'è pure Quell'acqua lì Che fa scivolare stile banane Allora E praticamente devo passare Dietro questo Dietro quello E poi giro Ah è difficilissimo Sì è così eh No mi sta vedendo What? No Ce l'ho scoperto vero? Sì Ecco qua No è davvero complicato Non riesco a capire come si possa fare Non so neanche io come ce l'ho fatta Ok Allora Cerca un buon travestimento Quindi negli armadietti Sicuro negli armadietti Sì Allora Allora Accidenti di banane Ma che ci fanno qui? Lasciateci in pace banane Allora qua non sembra C'è un lucchetto Quindi sarà ovviamente lì vero? Sì molto probabile Dovremmo trovare anche la chiave Ok Allora Dammi una mano Occhi aperti Cerca di notare qualsiasi cosa Sì sì ovvio 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 Via C'era qualcosa comunque qui sotto eh Non so cosa sia Perché non vedo bene Ah no eccola lì Eccola lì Eccola lì vai Ok Eh si muove un po' tutto Lo sai? Ho notato la barca giustamente in mezzo a una tempesta Quindi mi sembra anche normale che uscirmi tutta Ecco Toglietemi le bucce di banana Ok Andata Vai alla sala di comando Ok Come ci arriviamo adesso alla sala di comando? Attenzione si scivola davvero Grazie mille Grazie Eh grazie Se non ce l'aveste detto non l'avremmo mai notato Guarda Esatto Allora Quindi dobbiamo trovare il modo di andare alla sala di comando Ah forse ho capito No Non fare cose Che non hanno senso Ma uffa Ma perché fai ste cose? Perché secondo me posso incastrare le gambine in quelle assi di legno Capito? Ma dici? No Secondo me no Oh Oh Non si sa come ce la fa Non si sa come Breakdance Per una volta i tentacoli sono serviti realmente a qualcosa Vai Vai alla sala di comando Ci sono? No non vogliamo però Comandare No Non è una buona idea Perché ce la fate fare? No Oh ce l'ho fatta Ma hai visto? Era Scarlett Chi è questo? E questo è come ci siamo conosciuti allora Dici? Sì è un ricordo di come ci siamo conosciuti Ne sono quasi sicura Sì la nostra mogliettina Era una pescatrice Mi spiace di se salita nascosto La prego di non tirarmi in mare Ma Ma secondo lei Ma stia tranquilla Ma è normale andare di nascosto Siamo entrambi nei guai Ah gliel'ha detto Chi sei realmente allora? Ok Non glielo dice Ha cercato clandestini Ma ce l'ha proprio con tutti eh Sì Ce l'ha proprio con tutti E dice che ci devo parlare però Ma perché? Ma perché sono convinti che siamo il capitano noi? Cioè no Non c'è nulla di diverso capitano No no Stai tranquilla Siamo normalissimi quest'oggi Se lei è davvero il capitano Cosa ci farà fare? Faccia la ballata del capitano E di nuovo il tuo momento Le sei tu le ballate Allora Certo Noi lo sappiamo fare Il nodo margherita è il più facile Ma che dici? Tu sei le mattine e fai un nodo margherita Ma scherzi? Come si fa? Devo guardare l'immagine Ok Esatto Devi chiudere così secondo me Non ti piace? Oh no Ti sbagli Oh no 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 Non è vero Non è vero Non è vero Si è messo in mezzo a Scarlett E fai cadere la chef dalla barca Ecco perché ce l'ha con noi Vai Vai Distruggi tu Poveraccio Poveraccio L'abbiamo puttato in pieno oceano Ci credo che era raviatissimo E lui ovviamente a nuoto riuscirà a tornare Non si sa bene come Esatto Va bene Però è invincibile Ti trovi Adesso siamo anche vestiti normali Non so bene come Ciao Ah l'atto è salvagente Hai visto? Per carità Giusto Quindi per quello riesce a salvarsi E poi a venire Sistemeremo tutto Ce la faremo Ne sono sicuro Lo spero Comunque ci fermiamo così per questo episodio Quindi nel prossimo dovremo finire il gioco E sarà assolutamente epico Perché dovremmo sconfiggere una volta per tutte lo chef Secondo me nostra moglie comunque scoprirà che siamo dei polpi Quindi speriamo Ma ci accetterà e ci amerà lo stesso Esatto Che finirà tutto per il meglio Si spera Perché se è il letto fine Sono felice Se al finale è triste Disinstallo il gioco Esatto E gli mando anche una recensione negativa Perché non può finire male Una stellina Ok Una stellina Beh ragazzi Non ci vedo il nostro video Sceglieci un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarvi Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao